La riqualificazione del San Massimo sembra non essere più una chimera. Buone notizie sono state riportate dal Comitato Cittadino Salviamo l'Ospedale di Penne, che nei giorni scorsi è tornato ad incontrare l'assessore alla sanità regionale Nicoletta Verì. Sul tavolo dell'assessorato, il comitato, tramite il suo presidente Nicola Spoltore, ha fatto esplicita richiesta di una maggiore sensibilità per quanto riguarda le sorti del nosocomio, chiedendo risposte certe per i tanti utenti, spesso anziani, che vi affluiscono. Il fatto che la riqualificazione non sia più un'utopia è presto svelato. L'assessore Verì, sempre in attesa dell'esito del tavolo di monitoraggio nazionale, previsto per fine gennaio, quando si saprà se il San Massimo sarà promossa ospedale di base, si è impegnata durante la riunione all'assunzione di nuovo personale medico per il presidio ospedaliero Vestino. Due medici saranno inseriti nell'unità operativa semplice dipartimentale di ginecologia. Altri due medici prenderanno servizio nel reparto di medicina, ridotto ai minimi termini ai quali saranno aggiunti, come programmato, altri due medici a partire dal mese di febbraio per rafforzare l'organico. Rassicurazioni anche per quanto riguarda i medici del reparto di ortopedia, che non dovranno dividersi tra penne e popoli come accaduto negli ultimi tempi. La ciliegina sulla torta potrebbe arrivare dall'assunzione di nuovo personale infermieristico, che andrebbe a tamponare e migliorare le condizioni di lavoro nei vari reparti. Nel corso dell'incontro di Via Conte di Ruvo a Pescara si è tornati a parlare anche dei 12 milioni di euro per la ristrutturazione dell'ospedale dell'area Vestina, a questo punto fondamentali, con piacevole conferma da parte dell'assessore Verì, il quale ha annunciato come questa somma di denaro sia stata già approvata dalla Corte dei Conti. Intanto, per assicurare una governanza efficace ed efficiente del sistema sanitario regionale, è stato istituito il tavolo permanente di coordinamento Regione ASL, il quale dovrà riunirsi con cadenza mensile avvalendosi dell'intervento di professionalità competenti per l'approfondimento delle materie oggetto di discussione. Del nuovo organismo faranno parte l'assessore regionale, il direttore del Dipartimento regionale Sanità, il direttore dell'Agenzia Sanitaria regionale, i direttori generali, amministrativi e sanitari delle ASL provinciali. Per la partecipazione ai lavori dell'organismo non è previsto nessun compenso. Tra le priorità, il nuovo patto per la salute, l'organizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliere e dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa.